Buongiorno, siamo al sabato della Biennale, spero che vi stiate divertendo, che stia piacendo questa edizione 2022, mentre sto parlando stanno arrivando ancora un pochino di persone, vi ringrazio di essere qua di sabato mattina per incontrare Helga Novotny. Noi abbiamo il ricordo del 2007 ancora stampato nella mente, non sto pensando alla crisi finanziaria che ha portato la Lehman e nemmeno alla presentazione dell'iPhone. Nel 2007 la cosa importante che è successa è stata la fondazione dell'IRC, dell'European Research Council, che è stato fondato con Helga Novotny, Presidente. Ha cambiato il modo di finanziare la ricerca in Europa con una logica che non era legata a forme strumentali della ricerca, ma la curiosità, la capacità di tirar fuori le idee degli scienziati, dei ricercatori europei, da allora sono successe un sacco di cose grazie all'IRC e un po' ha cambiato non soltanto le possibilità dei ricercatori di portare avanti le loro idee, ma anche l'idea di scienza in Europa, un'idea secondo la quale la scienza è di per sé un valore, indipendentemente poi dalle sue chiarissime e importantissime conseguenze e ricadute, come si suol dire. Helga Novotny ha scritto molti libri, è una persona che studia la scienza da un punto di vista umano, dal punto di vista delle scienze sociali, è perfettamente adeguata allo spirito della biennale, dove come sappiamo il motto è tecnologia, è umanità oppure è umanità, insomma ditela come volete, ma fondamentalmente questo rapporto tra la tecnologia è l'umanità, la scienza e l'evoluzione della società. La tecnologia non è una realtà separata, la tecnologia è l'umanità e questa tecnologia della quale parliamo oggi, l'intelligenza artificiale cosiddetta, ha delle conseguenze che non sono soltanto tecniche, non sono soltanto economico, sono anche puramente culturali e di questo ci parla perché la sua ultima ricerca si è condensata in un libro che in inglese suona in AI we trust e chi ha mai visto quelli vecchi si ricorderanno che sui dollari c'è scritto in God we trust, questo è in AI we trust. Poi in italiano è stata tradotta con diciamo un piglio più teologico, le macchine di Dio, perché le macchine di Dio, che cosa fanno queste, la macchina di Dio, questa AI, che cosa fa alla nostra umanità è quello che ci racconterà Elga Novotny, alla fine della sua lezione avremo modo di fare un po' di dialogo, di domande e vi auguro una buona lezione. Buongiorno, anche da parte mia parlerò in inglese, come è stato detto, è la prima volta che vengo alla Biennale e ieri ho potuto girare e ascoltare una parte delle discussioni. Mi è piaciuto moltissimo lo spirito che c'è nella Biennale perché siamo arrivati ad un punto dello sviluppo della scienza in cui è importante portare insieme le scienze naturali, sociale e le tecnologie e questo succede anche al Politecnico e deve succedere anche in altri istituti. Mi piace moltissimo questo spirito, grazie moltissimo Luca per questa introduzione molto gentile e generosa e adesso cercherò di vedere questo, di spiegare il modo in cui i titoli sono spiegati, ci dice che la traduzione automatica, quella di Google, è ancora ben lungi da comprendere quelle che sono le differenze culturali e tutte le traduzioni automatiche hanno questo problema del non afferrare l'ambivalenza. Quindi vorrei iniziare a dire che quando parliamo dell'intelligenza artificiale o quando usiamo le parole tipo machine learning, deep learning, dobbiamo vedere qualche cosa di nuovo, cioè che si dà un compito ad un'intelligenza artificiale e mentre lavora con i dati è un compito molto semplice, per esempio i dati aggiuntivi che gli vengono dati è in grado anche di apprendere, apprendere qualcosa di nuovo che emerge. Ciò significa che noi dobbiamo occuparci di un bersaglio che si muove molto rapidamente e le conoscenze di ieri sono quelle che non serviranno o saranno lasciate a lato, sostituite dalle conoscenze del domani. C'è questa accelerazione nello sviluppo di queste tecnologie, queste potete vedere è un quadro, un quadro di molti dei quadri che avrei potuto scegliere e che è naturalmente famoso e ha dei modelli linguistici molto chiari, questi sono dei modelli che lavorano naturalmente con gli algoritmi che si basano su una quantità di dati che possono essere test, immagini o da ambedue. E questo viene preso anche da uno di questi modelli, ci sono altri modelli e ciò che vi permette di fare è di prendere un quadro, quale quello assinito, quello di famoso, di Vermeer, la ragazza con l'orecchino di perle che potete vedere e che se andate in Olanda potete vedere dal vero, è di dire alla macchina di contestualizzare questo quadro all'interno della cucina così come sarebbe stato. Ma si può anche dire mettete la ragazza in una casa moderna oppure datele un compagno o una compagna di quegli anni, questo solleva naturalmente una serie di domande. È arte questo o è semplicemente un'imitazione con variazione. E questi sono i tipi di domande che ci accompagnano ad ogni nuovo passo dello sviluppo di questa tecnologia. Gli esseri umani non si vedono qua, ma per poter fare questo è necessario un essere umano. Gli essere umano deve fare qualcosa che nel linguaggio tecnico si chiama prompting. Questo vuol dire che dovete mettere la macchina in una situazione in cui sa che cos'è che deve cercare, quali oggetti. Per esempio dovete dire cucina, XVII secolo, oppure dovete dire pentole o quello che sia. A questo punto ci sono delle varie prove e a questo punto sceglierete voi quello che va. E illustrerà anche quello che noi chiamiamo le effici, efficienza irragionevole di questo metodo. Cioè fa queste cose ma non capisce quello che fa. E questo ci ricorda ancora una volta quando noi ci occupiamo di queste cose straordinarie che ci sono, che le macchine sono in grado di fare. Ah diciamo sono intelligenti. No, in realtà non è intelligenza nel senso degli esseri umani. È un modo molto efficiente di lavorare con i dati, di fare quello per cui è richiesto, ma non capire quello che si fa. Lavorare con la tecnologia solleva una serie di domande che da parecchio tempo ci poniamo. Una delle domande naturalmente è se ci fidiamo della tecnologia. Essendo qua al Politecnico vorrei ricordarvi, me l'hanno ricordare quando mi hanno fatto vedere la data del Politecnico che coincide con l'ondata di simili Politecnici e che sono stati nello stesso periodo. Cioè quando ho visto la data di fondazione del Politecnico di Torino, lo stesso più o meno del mio di Zurigo ma anche a Vienna e anche a Berlino, sono il periodo in cui si fondarono i Politecnici e la fiducia nella tecnologia era allora la base dell'ingegneria e l'ingegneria era la base della industrializzazione delle nostre società. Si stava a questo punto, a quell'epoca, l'industrializzazione avanzava a rapidi passi. E gli ingegneri imparano quindi che noi dobbiamo fidarci della tecnologia perché evita gli errori e deve essere mantenuta. Una macchina deve essere anche non solo deve avere manutenzione ma deve essere anche migliorata. Gli ingegneri imparano questo ma con questo arriva anche l'idea che noi esseri umani siamo i padroni, siamo i padroni della tecnologia, siamo coloro che l'hanno inventata e quindi deve fare quello che noi vogliamo che faccia. Ma questa viene messa in discussione come affermazione, ripetutamente messa in discussione. E quello a cui vorrei attrarre la vostra attenzione è perché noi ci fidiamo della tecnologia. la risposta è che normalmente o solitamente funziona. E questo è il potere della tecnologia e che è in grado di funzionare. Anche se si rompe, anche se ci sono problemi, noi dobbiamo avere fiducia del fatto che può essere riparata, che si merita la nostra fiducia. rispetto alla fiducia che noi abbiamo in altri esseri viventi, esseri umani o nelle istituzioni, se vi fidate di un amico o di un'amica, un buon amico o una buona amica e questa persona promette qualche cosa che è molto importante per voi e poi non mantiene la sua promessa, a quel punto avete una reazione forte, è una questione molto grave, si perde la fiducia in questa persona. E quindi questo può causare anche una rottura dell'amicizia. Se poi nel caso dell'istituzione, tutti i dati che abbiamo ci dicono che la fiducia in particolare nelle istituzioni politiche sta diminuendo in tutti i paesi d'Europa e le persone a quel punto si rivolgono ad altre. Ci sono delle persone che per esempio entrano in una di quelle bolle che per esempio sostiene le teorie della cospirazione o si arrabbiano molto, votano per esempio per i partiti populisti. Questo è il modo in cui la fiducia nell'istituzione si perde e come viene tradotto in comportamenti. e poi vediamo che noi viviamo in società molto complesse. Tali complessità ci spinge verso una maggior fiducia nella tecnologia. Sono delle scatole nere e noi ci fidiamo di loro. Per esempio se sia una centrale nucleare o una rete elettrica, noi dobbiamo fidarci di queste strutture ma nel contempo la fiducia nelle istituzioni politiche diminuisce. Purtuttavia noi ci aggrappiamo a questa fiducia, vogliamo essere in controllo e molto spesso abbiamo anche questa necessità che non è soddisfatta. Per esempio ci sono una serie di problemi che non sono quelle che ci permettono di continuare a fidarci. Per esempio Susanna Zuboff ha scritto questo libro ormai classico sul capitalismo della sorveglianza in cui dimostra in dettaglia come le aziende stiano utilizzando l'informazione che noi diamo volontariamente per fiducia e come questo aiuta a controllarci fino al punto in cui molte persone hanno l'idea che l'intelligenza artificiale mi conosce meglio di quanto non mi conosca io. Perché conosce le nostre preferenze, le nostre emozioni, per esempio le fit bands ci dicono come va la nostra salute eccetera. Questo è un problema perché noi d'altro canto vogliamo la privacy e quindi per esempio durante la pandemia la privacy è diventata un grosso problema quindi dopo alcuni problemi iniziali c'è stato un livello di tracciamento delle persone e non è stata adottata perché le persone avevano paura che una volta che il governo avesse avuto una app che permetteva di tracciare l'avrebbe tenuta. Quindi questo è uno dei problemi che abbiamo e che dobbiamo affrontare. Un altro problema che abbiamo ha a che fare con il modo in cui i social media, i social stanno erodendo il debattito pubblico ed un altro aspetto è quello dell'inuguaglianza crescente all'interno della società e ben di più quello che viene chiamato il digital divide ossia l'oiato che c'è tra le persone che hanno la possibilità di utilizzare il digitale e quello di no è ben di più. Queste enorme concentrazioni di potere economico che abbiamo oggigiorno si traducono in potere politico e sociale quindi queste sono alcune delle questioni che dobbiamo affrontare e hanno a che fare con la domanda chi controlla che cosa e l'illusione del controllo. Quindi adesso cerchiamo di fare un passo indietro e porci la domanda come siamo arrivati a questo punto e c'è una risposta a breve e una risposta a lungo termine. La risposta a breve è assai semplice ed è quella della convergenza di diversi ceppi che si sono fusi. Abbiamo una potenza di calcolo enorme. I computer sono molto più piccoli di un tempo ma sono molto più potenti. abbiamo accesso e la disponibilità di una quantità enorme di dati fino al punto in cui le persone cominciano a preoccuparsi che cosa faremo in futuro con questa enorme quantità di dati che può essere immagazzinata e immagazzinata e immagazzinata e poi e il terzo punto sono naturalmente gli algoritmi che diventano molto sofisticati e le infrastrutture che sono necessarie e che utilizzano molta energia tempo in tempi di crisi energetica anche questa energia diventa un problema. questo a breve termine non è semplicemente un ceppo o un aspetto ma sono tanti aspetti che si intrecciano tra di loro e poi c'è la risposta del problema a lungo termine. Fernand Brodel lo storico è quello che ha parlato della longo durée cioè del bisogno di guardare con profondità nella profondità della storia e un modo per affrontare questo problema è di volgere lo sguardo indietro nella storia e di cercare anche di vedere contemporaneamente il futuro tornando indietro nella storia non è necessario andare molto lontano basta andare la metà del secolo scorso verso 1936 e il famoso paper che ha messo le basi matematiche di quello che c'era adesso poi c'è stato il progetto Manhattan, Neumann che ha applicato le teorie anche di Einstein e quindi naturalmente c'erano molti calcoli che andavano fatti e in quell'epoca la parola calcolatore era utilizzare per le persone e la maggior parte delle persone che calcolavano erano donne che si ricordavano del calcolo matematico che era necessario per poter costruire la bomba atomica poi naturalmente sono arrivati anche i computer e questa era una parte della storia ma è interessante che allo stesso tempo e questo si collega anche alla bomba la bomba è stata l'inizio di tutto questo l'antropocene è una nuova era geologica e dipende dove si fa iniziare dove nella storia la posizioniamo nella storia siamo arrivati al punto in cui gli umani hanno un impatto così grande sulla terra che noi possiamo cominciare a parlare di antropocene quando ascoltate i giovani il concetto di antropocene è molto presente orbene i geologi sono coloro che tengono conto dei tempi delle ere quindi sarà compito dei geologi di dichiarare che una nuova era sta iniziando e quindi che quando è iniziato l'antropocene i geologi si occupano principalmente di sedimenti, di laghi, di rocce ma loro insistono e dicono che se affermate che questa è una nuova era dovete trovare anche le prove di questo dove si vede nella storia della terra e quindi ci sono diverse idee su questo ma la cosa più probabile, la cosa non è stata ancora definita perché anche i geologi ci mettono un certo tempo è un processo lento quello della geologia ma le prove che probabilmente sono le tracce radioattive che sono emerse dopo le prime prove sotterranee della bomba atomica e quindi abbiamo questa combinazione molto interessante in un periodo breve di tempo dell'inizio dell'era digitale con il lavoro matematico che è stato fatto e poi l'inizio dell'antropocene cioè quando abbiamo lasciato delle tracce radioattive prodotte dagli esseri umani e non naturali quindi se guardiamo al futuro io penso e questa è la mia interpretazione noi siamo sul punto di aver entrato un periodo di coevoluzione tra esseri umani e macchine le macchine che gli esseri umani hanno creato ma magari vogliamo pensare alle macchine in particolare le macchine digitali come fossero un'altra specie e c'è una citazione di Leonardo da Vinci che disse e devo parafrasarlo qua perché non ho trovato l'originale ma so che esiste Leonardo ha detto che con l'aiuto della natura gli esseri umani creeranno un numero infinito di altre specie e io penso che le macchine digitali forse vanno viste come un'altra specie e la coevoluzione vuol dire che due specie sono legate e coevolvono insieme l'una prende quelle cose dall'altra e viceversa e questo è sempre esistito nei processi di evoluzione ora io trovo sempre interessante perché qualcuno sceglie un particolare argomento come campo di ricerca e quindi voglio parlare un pochettino del mio viaggio personale io lo chiamo attraverso la digiterra, digiland come ha detto Luca io mi occupo di scienze e tecnologia, la mia formazione ma significa anche che io studio la scienza e come si funziona un sistema scientifico come funzionano gli scienziati ma studio anche il rapporto che c'è tra scienza e società ed è quindi l'impatto della scienza sulla società ma è anche il viceversa cioè che tipo di struttura sociale che tipo di scienze permettono da certe scienze di emergere e da altre no non ho potuto ignorare ciò che stava succedendo nel corso della mia professione quindi mi sono interessata all'impatto della digitalizzazione, questa coabitazione con la nuova specie cosa significa, se mi permettete di continuare con questa metafora, cosa ci fa e in che maniera noi la modelliamo e che cosa succede ai nostri rapporti sociali non personalmente, soltanto, certo, anche personalmente ma anche nei nostri rapporti e quindi a quel punto ho cominciato a guardare la letteratura la maggior parte della letteratura è stata scritta in maniera molto superficiale cercando di tenersi informati sui sviluppi più recenti e ho trovato che era veramente non particolarmente interessante ma ho scoperto anche che qualunque cosa fosse stata scritta anche quando andavo alle conferenze che c'era una divisione tra le tecnoutopie e le persone che credevano nella tecnoutopia e chi credeva invece nella tecnodistopia in questa stessa stanza ieri Evgeni Morozov stava parlando di utopia e ha parlato delle false utopie della Silicon Valley che propaga l'idea dell'utopia e può essere regolamentato sarà regolamentato e fornerà le soluzioni ai nostri problemi questa è l'utopia, noi le chiamiamo utopie false, fake o false ma ci sono delle persone che credono che vi sia un futuro utopistico e se ritornate per esempio quando è apparso l'internet le persone che stavano lavorando sviluppando l'internet loro per lo meno per un periodo breve di tempo erano convinti a questo punto abbiamo una tecnologia che ci permette di democratizzare possiamo aprire un nuovo mondo utopico in cui avremo più uguaglianza il sogno però non si è mai avverrato quindi ci sono le utopie, le utopie false, quelle vere e naturalmente le distopie una visione distopica cioè che l'intelligenza artificiale ci controllerà e noi diventeremo le appendici schiave dell'intelligenza artificiale io non ero contento con questa biforcazione perché stavo cercando il collegamento invece tra le diversi aspetti è un terreno su cui fare e tendo anche a pensare che una parte della speculazione di cui siamo coperti, di cui siamo invasi sono delle distrazioni da ciò che sono i veri problemi quindi alcune di queste grosse aziende vogliono che noi discutiamo sull'intelligenza umana, l'intelligenza artificiale a questo punto c'è la coscienza dell'intelligenza artificiale oppure no invece di comprendere la coscienza degli esseri umani non parliamo della coscienza delle macchine ma poi a questo punto c'è un immaginario collettivo e noi tendiamo a non vedere più i problemi reali che hanno a che fare con chi è in controllo cosa fa le nostre democrazia, le nostre istituzioni democratiche il criptomondo e come possiamo agire quindi ho dovuto trovare la mia strada in questo labirinto a questo punto mi sono occupata del potere degli algoritmi predittivi e l'ho fatto proprio per il mio interesse precedente sul mondo sociale e le previsioni hanno a che fare col futuro e sono sempre stata interessata di sapere come cambia la nostra idea di futuro e in che maniera questo influenza come noi viviamo il presente e quindi parlo anche della vita in una macchina digitale del tempo noi siamo in un momento dove da un lato come ha detto William Gibson un po' di tempo fa il futuro è già arrivato è semplicemente distribuito in maniera inequale e c'è già il futuro ma non è distribuito in maniera uguale e ci sono altre possibilità, grazie ma abbiamo anche il passato che fa capolino nel presente oggigiorno abbiamo per esempio le immagini del telescopio James Webb straordinarie ogni poche settimane vediamo nuove immagini di qualche galassia molto distante o come le galassie collideranno tra di loro ma naturalmente abbiamo l'impressione che queste sono cose che succedono ad esse milioni di anni luce fa ma quello che stiamo facendo è che stiamo guardando il passato non è il presente così come l'abbiamo oggi è il passato perché la velocità della luce è relativamente lente finché è tempo che ci raggiunga con queste distanze immense è il passato ma è un passato che diventa parte del nostro presente e questo è uno dei motivi per cui il presente sembra così sovraccarico non è solo che non abbiamo tempo di fare le molte cose che vogliamo fare ma questo è uno dei motivi gli algoritmi predittivi sono un buon argomento per me e l'altro è che io ho scritto anche un libro sull'astuzia dell'incertezza nel quale ho cercato di trovare di incoraggiare le persone a gestire le incertezze di non aver paura delle incertezze e naturalmente se svolgiamo lo sguardo al futuro il futuro è sempre incerto quindi gli algoritmi predittivi hanno secondo me li possiamo guardare in maniera chiara e in ogni cultura umana le persone volevano sapere in tutte le culture le persone hanno sempre voluto sapere qual è il futuro cercavano di sapere cosa c'era e quindi per esempio c'erano gli oracoli i cinesi l'avevano altri luoghi altri paesi in Africa per esempio lo sciamano usa le ossa di pollo in Roma si avevano gli auspi per esempio si guardavano gli uccelli oppure l'interiora oggigiorno noi non abbiamo questo anche se alcune persone leggono gli oroscopi ma in generale abbiamo lo stesso desiderio di sapere noi scriviamo dei rapporti per esempio l'energia per il futuro ma queste sono una continuazione delle cose che facevamo un tempo quindi questi algoritmi ma vi sono anche delle trappole nel momento in cui cominciamo a credere troppo alle previsioni fanno delle cose straordinarie quando ci sono delle previsioni scientifiche questa per esempio questa proteina è veramente quella deep mind folding è veramente straordinaria ma quando diamo troppo potere troppa agenzia all'intelligenza artificiale è quando cominciamo a credere ciò che ci dice che ci sarà nel futuro e cominciamo ad agire di conseguenza perché a quel punto ci sono delle profezie autoavverantesi e rientriamo da un punto di vista deterministico in cui il futuro è già stato definito e questo è quello che io chiamo il paradosso della previsione noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per aumentare il nostro controllo sul futuro e l'incertezza mentre allo stesso tempo la resa dell'intelligenza artificiale il potere che ha di farci agire nei modi in cui predice o prevede riduce il nostro controllo sul futuro il futuro è incerto il futuro è incerto ed rimane sempre in non definito perché siamo parte di una definizione biologica un'evoluzione biologica noi siamo esseri viventi quindi facciamo parte dell'evoluzione biologica nel contempo però noi abbiamo inventato qualche cosa che è l'evoluzione culturale la scienza e la tecnologia lo fanno che sta soprassedendo quelle che erano i nostri criteri precedenti e anche questo continua ad evolversi se noi ci dimentichiamo che questi algoritmi predittivi ci permettono di vedere in avanti ma che sono soltanto delle probabilità allora a quel punto assumiamo il rischio di scivolare di nuovo nel rinunciare riscivoliamo indietro in un luogo in cui abbiamo rinunciato alla nostra capacità di agire e quindi dai dati abbiamo delle estrapolazioni dal passato a volte è un presupposto ragionevole pensare che avveri nel futuro ma è sempre solo una probabilità e non è mai una certezza assoluta quindi che cosa è che dobbiamo fare? e questa è la mia conclusione con molte domande ma noi abbiamo dobbiamo affrontare il fatto che l'intelligenza artificiale rafforza e concentra il potere nella società già in precedenti cambiamenti gli economisti dell'innovazione hanno visto un cambiamento di paradigma per esempio l'industrializzazione che è un cambiamento del paradigma dell'economia e della tecnologia che cambia anche la società hanno guardato a quello che è successo in tempi precedenti e quello che sta succedendo adesso quello che è successo in ere precedenti è che si aveva un'enorme concentrazione di potere il vincitore piglia tutto e assopiglia tutto e a meno che non vi sia la volontà politica e la capacità politica di regolamentare questa concentrazione la concentrazione persiste nella storia nella storia è sempre interessante guardare la storia c'è stato a un certo punto una corporazione la East India Company che quando c'era lo zenith dell'impero britannico era più forte dello Stato aveva il proprio esercito e noi dobbiamo stare molto attenti per vedere come possiamo ridurre il potere di queste concentrazioni poi naturalmente tutti si rivolgono all'etica per fare da contrappeso perché nei documenti eccetera c'è riferimento certo che vogliamo l'etica un comportamento etico ma è molto più difficile e l'etica non è una checklist non è una lista da controllare c'è stato un gruppo di studio a Zurigo che ha a guardare le linee etiche le linee guida etiche di 100 documenti 50 di governi e 50 invece di organizzazioni industriali hanno guardato le linee guida etiche cosa c'era hanno visto che non c'è accordo anche i principi dell'etica in questi 100 documenti variavano non c'era uniformità la trasparenza per esempio era presente in più di 50% ed era il più alto poi altra per esempio avere un'intelligenza artificiale in cui si può avere fiducia c'era ogni genere di principio etico che però non hanno portato a un consenso generale né di che cosa fosse né di come attuarla è un argomento molto difficile ci sono dei problemi tecnologici all'interno e in realtà non abbiamo trovato un buon modo per inserire l'etica al suo interno e se guardate le procedure etiche è un modo per anche affrontare i risultati ciascuno ha i propri problemi e pur tuttavia abbiamo molto chiaro che dobbiamo ridurre le tendenziosità o bias che c'è ognuno ha i propri bias i dati per esempio possono essere tendenziose a seconda del coordinamento di come sono elaborati ma ciò non di meno noi vogliamo fare qualche cosa che limiti o blocchino queste tendenziosità poi c'è naturalmente il bisogno e la difficoltà di introdurre delle regolamentazioni e in questo caso noi dobbiamo riconoscere il fatto che tutte le tecnologie digitale e l'intelligenza artificiale devono essere anche viste all'interno di un contesto geopolitico e che ci sono stati uniti da un lato dove la regolamentazione nonostante quello che dice la Silicon Valley la regolamentazione vista come un blocco allo sviluppo perché rallenta l'informazione questo secondo Silicon Valley poi abbiamo la Cina dove lo Stato controlla tutto la sorveglianza in questo caso non ha purché lo faccia lo Stato non ha conseguenze l'Europa è in mezzo cercando di di sviluppare dei valori europei e la Commissione europea ha prodotto una serie di tentativi di legiferare quindi il governo del Digital Act eccetera purtuttavia non devono essere attuati e bisognerà vedere in che misura riusciremo a farlo perché è importante che avere delle buone leggi ma bisogna anche vedere come tali leggi vengono attuate e bisogna monitorare l'attuazione altrimenti rimane un ideale un pezzo di buone intenzioni rimane senza attuazione vorrei concludere qua perché vorrei lasciare del tempo per la discussione e qui voglio dire grazie moltissimo e poi vorrei lasciarvi con queste parole la frase del mio libro in italiano e dice se vogliamo conservare il significato di esseri umani dovremmo imparare a usarle saggiamente e coltivare questo tipo di saggezza di cui il futuro ha bisogno grazie moltissime per la vostra attenzione grazie grazie eccoci grazie Elga Novotni lei comprende l'italiano preferisce parlare in inglese ma insomma è in grado di sentire le nostre domande in italiano attualmente chi vuole può farlo in inglese non ci sono nessuna limitazione da questo punto di vista mi è sembrato un discorso ricchissimo di punti di riferimento uno volevo proprio un chiarimento perché se noi diciamo di avere fiducia nella tecnologia perché funziona è un po' più difficile dire che abbiamo fiducia nella scienza perché non si sa se funziona è densa di ipotesi insomma ha un altro tipo di statuto epistemologico ora nella nostra società che ha questa tendenza ad essere arrabbiata sfiduciata nei confronti delle istituzioni la tecnologia può darsi che funzioni ma la scienza sicuramente si pone in un territorio di dibattito abbiamo vissuto due anni nel quale questo dibattito è stato particolarmente significativo lei come ne è uscita che cosa è cambiato nel suo modo di vedere la fiducia nei confronti della scienza durante questi due anni di lockdown covid eccetera c'è stato un cambiamento oppure semplicemente abbiamo visto che le posizioni nella società si sono divise quelli che ci credono quelli che non ci credono come se fosse un'opinione Penso che vi sia qualcosa che gli scienziati non hanno fatto bene negli ultimi anni anche prima della pandemia cioè nella loro capacità di comunicare con la società perché molto spesso ciò che è stato comunicato sono stati dei risultati straordinari il prodotto della ricerca e questo è stato un modo per rispondere alla pressione che gli scienziati subiscono sull'utilità del loro lavoro dopotutto sono denari pubblici il modo di misurare l'impatto ci dice qualcosa le proposte di ricerca ci devono già dire quali sono i risultati insomma ci sono una serie di motivi strutturati perché ci si occupati del prodotto non considerando abbastanza il processo di ricerca e il processo di ricerca è pieno di incertezze se sapeste già il risultato state applicando delle conoscenze che già avete ad un contesto specifico ma non ha l'apertura del progetto di ricerca questo è il motivo per cui noi al nostro centro abbiamo insistito che non vi sono pietre miliari non ci sono risultati perché una risposta porta ad un'altra domanda e vi è una metafora molto bella di François Jacot il Nobel che ha detto ha detto che la luce c'è sempre la scienza alla luce del giorno e alla luce della notte nel giorno tutto funziona bene e potete presentare al mondo i risultati che avete ottenuto meraviglioso però c'è anche la scienza di notte nessuno la vede e nel lato notturno il vostro esperimento non funziona bisogna rivedere buttare i primi risultati nel cestino poi si è frustrati poi si va a casa si torna il giorno dopo eppure questo è l'altro lato della medaglia in altre parole tale incertezza non è stata comunicata in maniera sufficiente né ai politici né alla società e i politici quando chiedono agli scienziati ma che sia la pandemia o il tumore o qualunque altra cosa vogliono avere un sì o no causa tumore non causa tumore ma se la risposta onesta è sì in alcune circostanze o no in altre circostanze i politici non vogliono neanche sentirlo non vogliono sentire quali sono le condizioni non capiscono le probabilità sia una gamma di certezza che si può dire c'è una gamma si può dire all'interno di queste ipotesi è possibile e questo mi riporta all'importanza di comunicare come funziona la ricerca il processo della ricerca e non è il metodo scientifico miracoloso non è che potete tirarlo fuori da un cappello bisogna farlo passo per passo ed è difficile e questo il risultato è sempre incerto d'altro canto gli scienziati vivono di questa incertezza perché volete andare dove nessun altro è mai andato e quindi siete molto contenti le possibilità si aprono se siamo incerti se siamo troppo sicuri come dice nel finale del suo discorso la società si chiude diventa deterministica in qualche modo perde libertà allora penso che questa sia una delle lezioni della pandemia io direi ogni scienziato che comunica con la società deve essere più attento attenta di come si sviluppa la ricerca quale sia stato il lavoro fatto quale è stata la procedura com'è che si cerca di affrontare le varie opzioni e com'è che si procede ma nel contempo ci dice anche una parte dell'entusiasmo supponendo che la scienza riesca a convincere le persone che la incertezza è bella ed è la strada per aprire le forme migliori insomma dell'evoluzione allora potremmo insegnare anche ai politici di essere un po' più incerti che forse conquisterebbero un po' più di legittimità ok ma vogliamo voi vi state preparando se volete alzare una mano è il momento eccola la sono tre prego prima lì la domanda in inglese come avete detto vi sono molte pressioni per essere sicuri secondo me non è semplicemente che i politici sono così ciechi che non vedono l'incertezza ma che in generale si richiede cioè devi dimostrare una certa certezza in un'epoca di incertezza i leader che le persone si ricordano sono quelli che avevano certezze non quelle che avevano incertezze e anche con la scienza funziona così ma tenendo questa mente tenendo la pressione che questo causa sulla democrazia come è stato detto prima naturalmente chiunque vince la guerra sull'intelligenza artificiale sarà il leader mondiale e se non fosse l'Occidente a vincere questa guerra? Io preferirei di non parlare della guerra dell'intelligenza artificiale penso che una delle peggiori dei peggiori incubi è che noi ci stiamo spostando verso le armi autonome perché questo sarà veramente un incubo se le decisioni umane sono completamente eliminate si programma una guerra e nessuno è in grado di interferire anche se volesse interferire per bloccare il processo cioè le armi non possono più essere bloccate questo è qualche cosa che avviene davanti ai nostri occhi nel passato in generazioni precedenti facevano delle negoziazioni sugli armamenti c'erano anche gli scienziati americani e sovietici all'epoca per cercare di avere una qualche accordo ed io penso che dobbiamo di nuovo ripartire da negoziati sugli armamenti perché si tratta dell'umanità e riguarda tutti noi siamo tutti noi coinvolti quindi da un certo punto di vista preferisco non vederlo come il pericolo più imminente ma di vederlo come qualche cosa che dobbiamo affrontare e dobbiamo cominciare a pensare che cosa può essere fatto per per evitarlo alcune armi sono state vietate in alcuni casi gli esseri umani hanno deciso che qualche cosa non dovesse essere fatta non dovesse essere permessa vengo da Bruxelles e quindi io mi riferisco alla legislazione europea avete avuto la possibilità di leggere la legge sull'intelligenza artificiale e avete dei suggerimenti visto che il Parlamento europeo ci sta ancora lavorando perché c'era questa proposta del Parlamento di attuare i diritti fondamentali voi avete parlato di etica vorrei sapere da voi se deve essere fatto anche una valutazione dell'impatto dell'etica o pensate che potrebbe essere troppo poiché altre l'autovalutazione per esempio non basta in alcuni casi quindi deve esserci una valutazione su tutti questi argomenti da parte terzi direi che a questo punto lei propone una discussione legal filosofica che cos'è una buona legge ma in generale penso che uno degli problemi degli approcci che è stato assunto a Bruxelles è quello basato sul rischio e secondo me questo è molto sano cioè in altre parole si definiscono le zone a rischio e che cosa avviene che cosa è verde cosa è arancione che cosa è rosso estremamente pericoloso per poter differenziare rischio non è alcuni rischi sono seri altri rischi non sono seri e probabilmente qualche cosa di simile deve essere fatto con tutti noi ci facciamo riferimento ai principi etici ma com'è che vengano attuati è molto importante parlare ai designer e vi diranno che è un'architettura così complessa che non si possono mettere ore e ore e poi trasformarlo in un buon algoritmo bisogna vedere dove sono gli interventi come sono e questo dipende dal dominio non c'è un unico paesaggio un'unica situazione quindi io cercherei di non sovra regolamentare perché a quel punto lì non funzionerà nella realtà empirica d'altra parte bisogna avere un approccio differenziato ed una delle cose che riemerge quando si parla con chi se ne occupa è che non sanno come spiegarlo perché se si prende la spiegabilità l'explainability in maniera molto chiara allora è molto difficile spiegare cosa fa un algoritmo quindi la domanda è perché si introduce questo criterio se sapete che tecnologicamente non può essere attuato quindi queste sono alcune delle mie risposte ma è una discussione in corso molto importante ma penso che sia buono parlare anche a persone che lavorano nell'industria naturalmente loro hanno il problema che la maggior parte delle cose sono coperte da privacy e c'è troppo poco nel dominio pubblico del tipo di cose di cui abbiamo bisogno fortunatamente in Europa se ne discute nelle università tecniche qualche anno fa io invece ero in California e l'università di Berkeley la gente si lamentava dicendo noi non abbiamo più i professori per insegnare perché l'industria li paga così bene è che i professori preferiscono andare a lavorare nell'industria quindi sapete noi come pubblico dobbiamo settore pubblico dobbiamo naturalmente avere i migliori professori per formare i giovani ma poi queste persone vanno a lavorare per l'industria pubblica e allora l'industria privata scusate e allora l'industria privata che discute di questi problemi dietici io penso che in Europa noi siamo privilegiati dei cittadini privilegiati quando io vedo Elon Musk che licenzia il 50% dei dipendenti di Twitter sulla base di criteri economici io mi sento in pericolo che cosa succederebbe se a un certo punto diciamo diventasse presidente degli Stati Uniti che è nato in Sud Africa per cui non può diventare presidente degli Stati Uniti beh se non è lui qualcuno come lui che cos'è che l'Europa può fare perché a causa della nostra o grazie alla nostra storia noi forse abbiamo un'idea più chiara di cosa può essere un limite ma che cosa si può fare per difendere la cittadinanza contro un potere che non è limitato cioè che non ha limiti intrinsechi perché dipende economia concordo con voi che sia rispetto agli Stati Uniti che la Cina l'Europa ha una posizione privilegiata se non che noi non controlliamo queste grosse società o corporazioni abbiamo difficoltà anche difficoltà a fargli pagare un minimo di tasse che dovrebbero pagare perché non pagano le tasse che dovrebbero pagare le imposte questo naturalmente è il nostro problema d'altro canto cos'è che può essere fatto la legislazione di Bruxelles è un buon modo di procedere per esempio l'atto di governance deve essere poi incorporato in 13 mesi quindi per settembre dell'anno prossimo deve essere incorporato nella legislazione dei vari Stati membri e quindi anche l'Italia la deve fare questo dà delle possibilità perché la democrazia è forte tanto è forte se lo è nella sua attuazione e le persone cominciano a rendersi conto che la privacy dei dati o il modo in cui si governano i dati pubblici perché la legge sulla governance è su questo richiede un modo molto responsabile nell'affrontare i dati ci vogliono degli standard ci vogliono le garanzie di qualità ci vogliono delle istituzioni che sanno dove sono i dati e che fanno sì che i dati siano utilizzabili perché i dati non sono lì semplicemente tanto per essere dati grazie c'era ancora una domanda non c'è microfono non c'è microfono l'incontro dell'incontro aspetto etico dell'aspetto tecnico dell'aspetto scientifico potreste ripetere per favore perché non abbiamo sentito l'inizio cos'è l'etica per voi perché è molto importante per la comunicazione scienze e tecnologia ma una parte diversa l'etica è diversa nella scienza e nella tecnologia io lo dico in italiano che così almeno comprende meglio noi abbiamo bisogno che la parte scientifica comunichi con la tecnologia però è fondamentale che per proprio perché noi siamo esseri umani che ci sia una componente etica cosa pensa lei e qual è la sua componente nel dibattito tra queste due componenti scientifiche in proposito grazie viene ripetuta la domanda viene ripetuta la domanda è una priorità etica per pensare la tecnologia e è diversa da pensare la scienza direi direi che la scienza deve essere aperta a quello che noi non conosciamo ancora noi non possiamo prevedere tutte le implicazioni ma ciò non di meno noi abbiamo dei principi etici abbiamo l'integrità dei ricercatori il modo in cui si procede con la ricerca scientifica grazie ci sono sempre le responsabilità molte università hanno adottato un codice di condotta su per la ricerca per l'integrità nella ricerca e la responsabilità nella ricerca abbiamo quindi delle pilastri dei principi etici per la scienza e per la tecnologia una volta che c'è la legge quello che potete fare con la tecnologia quello che non si può fare sarà più chiaro abbiamo alcuni accordi internazionali un po' deboli ma li abbiamo ma è un processo in corso perché è un bersaglio che si muove molto rapidamente sia la scienza che la tecnologia e quindi bisogna vedere quello che sta succedendo e come possiamo essere adeguati ai nostri principi e c'è una responsabilità individuale ma c'è anche una responsabilità collettiva istituzionale le università hanno anche una responsabilità istituzionale allora c'era una mano alzata qua e poi lì in mezzo prego Luigi Giuliani Canada io vorrei sapere il suo punto di vista sulla singolarità come questo agirà in futuro fondamentalmente quando gli esseri umani diventano obsoleti cioè i vari comitati i governi non avranno più la possibilità di definire il futuro cioè di come noi costruiremo il mondo sarebbe stato interessante capire come la singularity la singolarità funziona la singolarità come sapete come probabilmente tutti quelli che sono presenti qua lo sanno è un concetto che è stato introdotto da Ray Cotswold e lui indica il fatto il punto più lontano nel tempo da un punto di vista dell'evoluzione potrebbe essere intorno al 42 cioè al 2042 dove la capacità dell'intelligenza artificiale presa nel suo insieme supera quello che gli esseri umani possono fare questa è un'ipotesi è una speculazione può darsi che succeda io dubito che succederà per una serie di motivi ma è uno di queste proiezioni ogni tecnologia ci fa guardare nel futuro come un enorme schermo su cui si proiettano la nostra immaginazione collettiva di quello che potrebbe succedere e naturalmente ognuno è libero di proiettare il futuro come se lo immagina questo ha delle ripercussioni su quello che facciamo oggi perché se siamo convinti che nel 2042 non è così lontano per voi giovani ci sarete tutti quando succede che cosa vi fa se siete convinti di questo com'è che cambiate la vita se sapete che questo succederà quindi questi immaginari collettivi ci ammagliano per me invece la scienza è scetticismo organizzato e come scienziata o come scienziate dovreste avere dubbi 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 ma dovete anche seguire un sentiero organizzato in cui organizzate i vostri dubbi che i vostri dubbi siano confermati o disconfermati in un modo o in un altro quindi io dipenderei di più dalla scienza che non dalle previsioni per vedere che ciò succederà io non vorrei diventare ostaggio di tale previsione finiremo adesso naturalmente sono contento di sentire l'europa e la commissione europea è stata nominata in varie risposte che lei ci ha dato io vorrei porvi una domanda una domanda una valutazione complessiva della produzione legislativa della unione europea sui diritti digitali e in particolare sulle responsabilità delle piattaforme quali sono i punti forti e i punti deboli io non studio i dettagli io lo seguo come parte ma quello che posso dire è che rispetto a quello che succede negli Stati Uniti noi siamo molto più avanzati e abbiamo delle discussioni molto buone e come sapete anche la commissione che fa le proposte poi il Parlamento che è coinvolto nel prodotto finale e il Parlamento naturalmente deve avere anche un impatto e tenere conto di quello che succede a livello nazionale quindi tutti dobbiamo essere coinvolti in questo e in molti casi vorrei finire con questo perché penso che la pandemia ci ha dimostrato come avremmo potuto fare di più con i dati che erano disponibili ma erano frammentari non stati comunicati bene ogni paese in Europa aveva dei dati frammentari ogni ospedale aveva i suoi dati i dati non erano confrontabili tra un ospedale e l'altro perché le categorie non erano uguali le classificazioni non esistevano i mezzi per condividerli non esistevano e quindi in ogni paese vi erano delle buone istituzioni scientifiche e delle persone che avrebbero potuto fare molto di più se i dati fossero stati utilizzabili e disponibili quindi l'informazione scientifica è stata data sulla base di dati molto deboli molto discutibili e questo è uno dei problemi quando discutiamo l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere semplicemente privacy 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 noi dovremmo anche riuscire a vedere il potenziale di utilizzare in particolare nel sistema sanitario che è quello che sono i dati che ci permetteranno anche di andare al di là della pandemia se avete i dati è possibile vedere per esempio c'è una probabilità che le persone con una malattia più probabilmente ne svilupperanno di un'altra quindi si parla di comorbidità a quel punto si può fare molto per impedire che questo diventi una malattia mortale molte cose positive possono essere fatte con i dati naturalmente dovete garantire anche la privacy io penso che nelle nostre discussioni dobbiamo includere questo in modo tale che tale legislazione sia una cosa che le persone capiscono e che vogliano accettarla ultima domanda grazie moltissime vorrei iniziare col dire che la tecnologia è una religione come voi avete utilizzato le parole divinazione fiducia credere quindi storicamente la religione ha sempre modellato la società alla fine ha determinato le regole con cui si è costruita la società quindi chi sono chi sono questi principi cosa sono questi principi oggi come stanno modellando la società io penso che siano riluttanti riconoscere il potere che hanno nessuno ha mai messo in discussione la potere della religione non ci sono solo i regolamenti quindi com'è che possiamo fare sì i nuovi sistemi possano rispondere nell'impatto che hanno sulla società vi do due risposte diverse una seguire la regolamentazione e questa è una questione di volontà politica di potere politico e a meno che queste grosse corporazioni che posseggono gli algoritmi che sono cioè noi sono come delle scatole nere noi non abbiamo idea di che cosa siano questi algoritmi che cosa fanno non hanno nessun obbligo di renderlo pubblico quindi se non siete d'accordo col risultato cosa potete fare per poter ridurre l'influenza di questo e questo è il primo questo è un problema di regolamentazione e avete bisogno di avere il potere politico per poterlo attuare per poterlo monitorare per avere anche cioè la legge cosa fa la legge una tecnologia sociale e per farlo bisogna anche che ci siano delle punizioni e bisogna farlo in modo equo e trasparente e l'altra risposta che vi do riguarda la religione ci avevano dei dubbi sulla religione ci sono state prima dell'illuminismo durante l'illuminismo dopo l'illuminismo quindi la gente deve come devono cominciare a vedere che la tecnologia è un prodotto umano che vi sono diversi attori vi sono interessi di parte nel tenere la tecnologia come è e noi lo vediamo come funziona questi algoritmi predittivi fatti da queste persone che sono ben pagate che lavorano in queste grosse corporazioni o società hanno trovate il modo molto sofisticato perché voi vediate le cose che loro vogliono che voi vedete perché questo è il loro interesse del profitto vogliono che voi continuate a farlo e questo è il motivo per cui molto di questo diventa una dipendenza hanno visto attraverso i meccanismi psicologici che questo fa sì che i giovani siano portati a fare alcune cose questo si sa ma dobbiamo bloccare questo dire aspettate un attimo non voglio essere catturato da questo voglio mantenere la mia capacità di giudizio certo in ogni modo sarebbe interessante vedere se la regolamentazione possa vuol dire che si può portare in tribunale in tribunale un prete se non vado in paradiso se quello che loro hanno predicato non funziona comunque grazie moltissime per questa discussione e grazie moltissimo anche a tutto il pubblico